Gigi D'Alessio e che lo vedrà da gennaio in Giappone, Cina e Australia. Per Gigi D'Alessio a Bari sarà allestito il più grande palco della storia di questa città che andrà dal muro della prefettura a quello del comune. Bari che diventa la regina d'Italia per una sera per me è un motivo di grande soddisfazione. Ha un fan doc tra i baresi? Ha il sindaco che dovrà cantare con me quella sera? No, cantare no! Devo dire la verità, appena ci siamo sentiti per organizzare il Capodanno ho avuto piena disponibilità, ma ha aperto le braccia, ha capito di che si trattava, sa come lavoriamo, speriamo sempre di fare cose più belle perché il tempo serve a questo, per imparare tante cose. Noi adesso già veniamo da un'esperienza dell'anno scorso quindi sicuramente anche quest'anno sarà ancora più bello. Bari è una città che mi ha sempre accolto a braccia aperte per questo è uno dei posti dove mi sento maggiormente a casa dichiarato questa mattina ad Alessio. C'è solo un unico grande meridione e proprio questo senso di prossimità, di famiglia ha portato il cantautore napoletano ad aderire a una campagna di solidarietà. Durante il concerto di fine anno infatti saranno raccolti fondi per il villaggio di accoglienza una struttura che sorgerà a Bari su un suolo confiscato dalla criminalità e assegnato dal comune di Bari e all'associazione AGBO. I confermatissimi sono i DR Jack, Briga, Anna D'Angelo anche per festeggiare in famiglia, i Colors, abbiamo Neck, abbiamo Jordi Cole che è il prete del segreto quindi faremo contenti un po' anche a tutte le donne che si vedono la fiction di Canale 5 ma stiamo lavorando per avere una bella bomba finale.